Ha aggredito un compagno di classe a colpi di spranga fuori dalla scuola, conclusione delle lezioni. È successo lo scorso martedì nel primo pomeriggio a poche centinaia di metri da un istituto scolastico di Arezzo. A finire nei guai un 17enne di origini albanesi per il quale è scattata la denuncia, vittima della brutale aggressione un suo coetaneo. Il 17enne lo avrebbe infatti colpito più volte con un tubo di metallo. Alla base dell'assurda violenza ci sarebbe un diverbio nato tra due giovani all'interno delle mura della classe. Pare che l'aggressore avesse chiesto al compagno di passargli i compiti. Dopo la reazione negativa il 17enne lo avrebbe atteso fuori dalla scuola per aggredirlo. Il giovane è stato denunciato alla procura dei minori di Firenze, dovrà rispondere di lesioni personali aggravate. Il compagno di classe è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, dove dopo le cure del caso è stato giudicato dai medici guaribile in sette giorni. Nella vicenda si stanno occupando i carabinieri di Arezzo che stanno portando avanti le indagini.